Tutto costa, poco 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 Dammi la forza, parlo del risotto, milanese, al salto Ingredienti, 350 grammi di riso cardaroli del palese, 100 grammi di burro, un quarto di cipolla, un bicchiere di... Si, ma bianco, secco Come era? Così, 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 così 4 bottine di sardegano, brodo bollente Non sono fesso, non sono fesso, braccio, 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 braccio Dai dai, hai imparato, hai bravo, 100 grammi di parigiare un raccogiatto, sale più bene Trissare finalmente la cipolla, farla in biondina con 50 grammi di burro via Unito riso, parla insaporire, aggiungere un zappellare nel vino bianco facendolo evaporare Aggiungere piano piano il brodo bollente Dietя d lobbying, d determination, delay Per cuocere per 9 minuti, preparare un lantecare con il burro di massa, il palido già registrato Passare una patella impurrata, qualche vegeta fuoco di base, 4 minuti per app今天, e voilà Dien, qui, resi, auguriamo buon effetto